Il taglio che vogliamo dare è un taglio per famiglia, aperto a tutti. Il parco si presta a essere visitato dai bambini e dalle famiglie, quindi l'ingrediente è quello. Dopo il check-in delle auto del mattino, alle ore 11, consegneremo questa tela alla palazzina e andrà a parete nella sala video. Questa tela ha le vostre spalle, quindi sarà donata? Rimarrà lì? Sì, noi siamo partiti dicendo, io, Diego Testolin, Roberta Di Chiara, dicendo che questa tela verrà donata. In realtà è l'esatto contrario, è Stupinigi che ci fa il dono di accoglierla, quindi siamo tutti noi grati a Stupinigi di questo. Ecco, ma vediamo che sul parabrezza di questa 500 si staglia un nome e sorge spontanea la domanda. Ruzza, il tuo nome? Ho fatto io questo percorso, gli ho dato il mio nome perché mi piace quell'epoca che c'è stata in Italia dove le aziende o comunque chi ideava qualcosa gli dava il suo nome come gesto di responsabilità. Cioè se noi guardiamo tante aziende famose in Italia, chi l'ha portata avanti, chi l'ha messa su come responsabilità gli dava il suo nome come per dire se qualcosa non va sono qua. E in particolare quella 500 raffigurata in questa tela è proprio di tua proprietà. Ricordiamo la storia, l'avevamo già narrata la prima volta in cui sei venuto a trovarci, è un modello molto particolare perché è un pre-serie. Sì, appartiene all'otto iniziale in cui comunque erano tutte uguali, quest'auto si distingue semplicemente per l'immatricolazione probabilmente perché la targa è Venezia, quindi evidentemente questi documenti quando sono stati consegnati al Pra di Venezia essendo un Pra dove ci sono poche auto ha trovato un'immatricolazione lampo, questo dettaglio, però insomma è un'auto del primo lavoro.